ola dopo anni ci si rivedeste allora dove siamo qua siamo a como siamo sul lago di como nel primo pezzo di bacino ovviamente quindi nella città di como questo è il rooftop diciamo così del ristorante e dell'infinity bar stasera scoprirai tutto molto bene mi stavi spiegando appunto questo all'inizio nasceva era un appartamento di uno dei proprietari e sotto invece dove attualmente ci sono le camere erano degli uffici giotto punto la proprietà ha deciso appunto di riscattare tutto lo stabile e farci questa struttura di gusto primo cinque stelle di lusso nella città di como perché gli altri ovviamente sono sulle sponde del lago quindi il primo in centrocittà e il primo rooftop quindi un ristorante diciamo di alta cucina ma con la vista lago cosa che ovviamente i nostri concorrenti manca ok quindi adesso ti fai vedere ma un piano andiamo a vedere ragazzi tra l'altro io stefano lo conosco mai da 45 anni almeno è stato uno dei primi a chiamarmi e conoscerci quando ho iniziato diciamo sia il nome dell'albergo è ovviamente bello e ragazzi che vista mamma mia bellissimo bellissimo questa è la zona qui si può ovviamente sia fare un aperitivo che mangiare d'estate o anche ovviamente ci sono le lampade riscattate anche d'inverno però stile americana quindi full secondo il bancone di sedile ovviamente per qualcuno di più ricercato abbiamo ovviamente il tavolo che è abbastanza conviviale come vedi quindi con un'unica pianca e i tavolini a parte e poi invece abbiamo un po' la nostra chicca che vediamo questa chicca questa è dove ci darai come stasera abbiamo questa saletta bella per ricreare un po' il salotto buono di casa beh ma è bellissimo no ma è bellissimo ricreare proprio un ambiente casalingo diciamo così ovviamente però ovviamente in un 5 staglia di lusso quindi leccare questo con proprio anche qui il balconcino privato quindi insomma questo è un po' il qua andiamo dalle 4 alle 8 persone ovviamente cena per un tavolo ovviamente su richiesta bene allora attendiamo assolutamente e vai